E voltiamo pagina e parliamo di uno spettacolo davvero da non perdere, una commedia teatrale dal titolo Scherzi da preti in casa canonica, un ritorno alla prosa per l'autore, attore, regista e direttore tra l'altro del teatro Madre Arte di Villaricca dove è in scena con questa commedia fino al 3 marzo 2024. Il buongiorno al nostro prossimo ospite Antonio Diana, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te e a chi ci segue da casa. Ecco oggi ci presenti una messa in scena che unisce le versioni precedenti di Scherzi da preti e Racconti e scherzi da preti già in scena tra l'altro nel 2017 e nel 2019, ma che novità ci sono per questa versione targata quindi 2024? Allora è sicuramente una versione molto più frizzante, quindi Scherzi da preti è ricordata come una commedia divertente, leggera e quindi in questa nuova versione io ho unito due testi e ne è venuto fuori un terzo praticamente ancora più divertente con qualche piccola novità. Quindi ci sono sicuramente delle novità perché poi Scherzi da preti nasce anche da racconti veri di amici sacerdoti che ci raccontano veramente alcuni episodi e quindi negli anni sono praticamente insomma cambiati anche degli episodi e quindi anche con il racconto di nuovi episodi abbiamo poi unito il tutto nella drammaturgia del testo. Stiamo vedendo anche proprio delle immagini. Nello spettacolo il pubblico scopre quindi la vita comune di questi tre sacerdoti che si divertono in una sintonia direi quasi ionidica narrando degli episodi di praticanti delle loro comunità parrocchiali. Che cosa deve aspettarsi il pubblico? Allora sicuramente sì, c'è uno spaccato anche insomma della vita sacerdotale e quindi il prete viene visto anche insomma un po' nella sua vita comune quando ritorna a casa in quei pochi momenti di pausa e quindi il pranzo con gli altri confratelli e questi momenti scherzosi come degli adolescenti, come dei bambini, cioè quindi ci sono una serie di scherzi si fingono sonnamboli posseduti da peccatori in confessione, arriva un altro sacerdote che dice che praticamente deve diventare prete esorcista non è vero, lo fanno solo per far spaventare Don Giano e quindi insomma ci sono tantissimi tantissimi scherzi tutti un po' mirati a Don Giano in scena Ciro Bianco che viene un po' bullizzato però a fin di bene perché lo fanno anche per svegliarlo un po'. Ecco Antonio per l'occasione sul parco non sei solo perché sei affiancato dai bravissimi Antonio dell'Isola, Ciro Bianco che hai nominato e Martina Brescia, come nasce questa sinergia? Allora Antonio dell'Isola e Ciro Bianco mi accompagnano in questa versione di Scherzi da Preti dalla prima edizione quindi dal 2018, mentre Martina Brescia è stato poi il nostro ultimo acquista, lei fa un po' la cameriera della casa canonica con lei che accudisce questi tre sacerdoti e sono molto soddisfatto di questa compagnia, di questi compagni di viaggio che insomma proseguiranno poi questo percorso con me, approfitto per salutarli tutti perché sono collegati sicuramente. Li salutiamo, tra l'altro sappiamo che nella prossima stagione teatrale la commedia Scherzi da Preti in casa canonica sarà distribuita nei piccoli e grandi circuiti teatrali nazionali, come ti prepari a questa avventura? Esattamente sì, allora è per me un ritorno alla prosa, negli ultimi anni diciamo che l'arte della ventriloquia mi ha rapito completamente quindi sono passato da versioni di spettacoli, un po' da one show al ritorno alla prosa e alla compagnia quindi sicuramente sarà un'esperienza affascinante, ci aspettano teatri anche al di là del circuito campano per la prossima stagione, quindi non vediamo l'ora di iniziare anche questo nuovo tour teatrale con Scherzi da Preti in casa canonica. E come abbia detto quindi dopo esserti dedicato con successo all'arte della ventriloquia che ti ha visto tra l'altro in tour e in programmi televisivi nazionali, torni scena in veste di attore, come mai questa scelta? Beh perché per esigenza, mi mancava proprio quel rigore teatrale che ti dà quando sei in una compagnia quando sei all'interno anche di una storia e quindi è diversa un po' la modalità anche di esibizione rispetto a quella da one man show anche se non sono da solo perché sono comunque insomma con tanti pupazzi e quindi prossimamente continuerà sia il tour pupazzo con gli spettacoli di ventriloquia che mi aspettano tantissime tappe estive e non solo e in contemporanea anche la prosa cioè io sono un teatrante, nasco nel teatro e a Villa Ricca in provincia di Napoli abbiamo il teatro madre arte che dirigo da diversi anni con una bella scuola di teatro quindi ovviamente insomma al di là dell'esperienza di regia mi mancava proprio stare in scena Ma la ventriloquia fa parte proprio di te e ho visto che hai portato un amico con te oggi qui a Mattina Live Sì, fa parte di me e in questa nuova versione la novità è che insomma c'è un po' di contaminazione pupazza e magica quindi insomma usiamo un po' di effetti di magia e quindi non potevo ovviamente Ma buongiorno, benvenuto Ciao, buongiorno a tutti, ciao Nici di Mattina Live E lui è il cane dei sacerdoti e un cane che c'è in casa canonica viene utilizzato per fare uno dei tanti scherzetti e quindi insomma anche lui un po' indirettamente è protagonista ed è presente in questo spettacolo e quindi insomma c'è questa contaminazione Sì, si vedrà anche insomma una scena dove utilizzo un pupazzo che si chiama Pippotto Come ti chiami? Pippotto si chiama Sì, ciao, buongiorno a tutti, ci sono anche io in scherzi d'attretti Faccio uno scherzetto Sì, perché diciamo che praticamente il cane è uguale al cane che loro hanno in casa canonica e quindi questo cane magari a volte è posseduto, a volte fa cose strane e c'è anche lui Sei contento di essere qui stamattina? Ah, certo, che ne radiglia, di aver fatto una bella tosseggiata Adesso vado anche io in tournée Beh, certo, vado anche tu in tournée In tournée in tutta Italia, sei preparato? Eh sì, certo, non vedo l'ora Pippotto anche lui Complimenti veramente Tu tra l'altro sei laureato in arte drammatica è fondato, come ben detto in precedenza, il Madre Arte Teatro che è una realtà veramente molto importante di Villaricca uno spazio teatrale in provincia di Napoli che dirigi con grande successo Sei abituato a calcare i palchi dei teatri nazionali prestigiosi? Ovviamente che cosa ti regala la dimensione della provincia? Ma sicuramente c'è un fascino che si sposta un po' più su una missione Abbiamo sicuramente, insomma siamo uno dei pochi spazi dell'area nord di Napoli e quindi è bello vedere tantissimi giovanissimi che frequentano il nostro spazio teatrale sia per i laboratori ma anche per la visione degli spettacoli È bello vedere tanti bambini giovanissimi crescere anche, insomma, e formarsi perché attraverso la formazione teatrale scoprono poi la formazione alla vita quindi al mondo delle relazioni e quello delle emozioni e quindi, insomma, c'è questo fascino poi io abito lì più o meno quasi nel teatro la mia camera da letto confina con il palcoscenico e quindi mi sveglio la mattina e apro il sipari e comincio la mia giornata da teatrante Ebbene, allora ricordiamo ancora una volta insieme l'appuntamento con Scherzi da Preti in casa canonica proprio fino al 3 marzo del 2024 presso il teatro Madre Arte di Villaricca Noi ti ringraziamo di essere stato con noi stamattina, mattina live grazie a te, grazie a Pipotto Ciao, grazie a tutti! Grazie a te, grazie ancora Antonio, Diana Piccolo break, rimanete con noi Grazie a tutti